Salve a tutti, buongiorno, siamo qui per consegnare questo tapiro a Mauro Detto Trecchioti perché è un mese che non va in montagna e si sente attapirato, consegniamogli questo tapiro ed ecco Mauro Trecchioti con il tapiro, grande, come si sente dopo che è uscito dopo un mese? Senza affaticato ma si sentiva attapirato che non poteva uscire per la montagna quindi li abbiamo portato, aspetti che facciamo il primo piano sul tapiro, eccolo qui direttamente dalla montagna del Pizzo Pellecchia, tapiro per Mauro Detto Trecchioti striscia la notizia, Pizzo Pellecchia, Abruzzo Trecchi 162, arrivederci